Buonasera e ben trovati intorno alle 9, questa sera parliamo del nostro pane, del pane tutto made in Prato, il Gran Prato e lo facciamo insieme al Presidente dell'Associazione Gran Prato, Marco Bardazzi. Buonasera, 7 anni sono passati dalla Costituzione dell'Associazione, da quella che era un'idea e poi è diventata in realtà una vera e propria filiera del pane, dal grano fino al prodotto finito, ovvero questo che vediamo qui accanto a noi, raccontiamo un po' la storia del Gran Prato, dall'idea iniziale a questo prodotto straordinario. L'idea iniziale del Gran Prato è nata grazie all'interessamento del Parco Agricolo di Prato che sentiva le lamentele dei produttori agricoli principalmente che non avevano più reddito nella produzione del grano ed è il motivo principale per cui è nata l'Associazione Gran Prato, quello di restituire la redditività alla produzione della materia prima, cioè il grano. Una filiera appunto come dicevamo tutta a Medi in Prato, perché appunto questa filiera e soprattutto anche l'eticità se vogliamo della filiera del Gran Prato? Ma guarda, fondamentalmente è di cronaca di oggi, insomma di questi giorni, la protesta dei pastori sardi ed è una protesta che fondamentalmente ha le stesse radici in tutte quelle che sono le produzioni di materia prima alimentare. Ovviamente l'agricoltura e il grano in primis non fa eccezione. Io vi ho portato un po' un piccolo esempio per cercare di spiegare questo concetto in maniera semplice. Produrre materia prima alimentare non crea più reddito all'agricoltore, così come neanche al mugnaio, perché il prezzo di mercato è troppo basso. Se possiamo vedere quello che vi ho portato, io vi ho portato l'esempio di quello che fa la filiera, cioè la filiera produce il grano, un chilo di grano, dal grano produce un chilo di farina e col chilo di farina si produce un chilo di pane. Allora, qui si vede che praticamente questo è quello che avviene secondo le regole del mercato corrente. Un chilo di grano all'agricoltore viene pagato 16,18 centesimi al chilo. La farina, prezzo di mercato nostro in Toscana, va dai 35 ai 40 centesimi. Un chilo di pane, diciamo così, generico, è intorno a 2,70 euro al chilo. Già da questo si capisce la sproporzione fra il costo del prodotto finito e il costo della materia prima di origine. 2,50 euro praticamente di differenza, possiamo dire così, dall'inizio alla fine. Esattamente, ma bisogna ribadire che non è il prezzo del pane troppo alto, perché il prezzo del pane è calibrato su un lavoro estremamente duro, sul lavoro notturno, gli alti costi di manodopera. È il prezzo della materia prima all'origine che è troppo basso. E Gran Prato ha voluto dare una risposta a questa problematica. Quindi, si è voluta svincolare da quelle che sono le logiche del mercato corrente. Di conseguenza, che cosa è successo? Quando questo grano è Grano Gran Prato, e io vi ci metto il nostro bel marchio, dai 16 ai 18 centesimi, il costo, il prezzo di questo grano sale a 38 centesimi. Più ho messo 2 centesimi. Perché? Perché praticamente 38 centesimi vanno direttamente nelle tasche dell'agricoltore. 2 centesimi, siccome la filiera Gran Prato utilizza un metodo di conservazione del grano molto qualitativo, che è quello di avere silos a condizionamento termico, cioè che usano l'aria fredda per conservare il grano, questo ha un costo, e questi 2 centesimi vanno all'azienda che ha questo sistema per coprire il costo di conservazione del grano. Quindi, alla fine, il grano Gran Prato viene pagato dal molino 40 centesimi di euro, contro i 16-18 che è il prezzo di mercato, oltre il doppio. Di conseguenza, poi andiamo, quando la farina è ottenuta dal grano Gran Prato, il prezzo sale a 70 centesimi. Anche qui, al molino si garantisce, in una forbice di 30 euro al quintale di margine di lavorazione, di coprire meglio i costi e di avere un margine di redditività leggermente più alto. Anche questo è molto importante, perché vediamo anche nell'ultimo anno, anche in Toscana, hanno chiuso dei mulini anche grossi, anche grandi, importanti, ed è segno appunto della sofferenza del mercato. Il pane, quando diventa Gran Prato, e quindi un pane a lievitazione naturale, con un disciplinare di produzione, quindi altissima qualità, sale da 2,70 euro a 3 euro al chilo. Alla fine, 30 centesimi di differenza, che coprono però questo grande valore aggiunto per gli operatori della filiera. E garantiscono naturalmente il consumatore di tutta la tracciabilità dei disciplinari di produzione, della certezza che quello che porta in tavola ha un'origine certa. Si può anche andare a visitare le aziende, quindi rendersi conto di persona, quello che succede nelle varie fasi della trasformazione, e penso che siano 30 centesimi ben spesi. Ah sì, anche perché appunto c'è questa certificazione totale dall'inizio alla fine. Diciamo sette anni da quella che era un'idea. Adesso cos'è diventato Gran Prato? Perché i numeri ora sono importanti. Sì, Gran Prato è cresciuto molto. Le aziende associate come produttori veri e propri sono oltre 20. Ma non ci siamo fermati solamente ai produttori ordinari. Ormai Gran Prato è diffuso in tanti alimentari come rivendite, ormai è diffuso, ci sono delle pizzerie che producono pizza esclusivamente con la farina Gran Prato, un piccolo pastificio che produce pasta fresca all'uovo, pasticcerie che fanno i tipici dolci della tradizione pratese, il biscotti di Prato, delle mantovane. E poi anche in ristoranti della città si utilizza la farina Gran Prato nelle preparazioni del ristorante e quindi ormai è una diffusione abbastanza capillare. Facevi riferimento a un disciplinare, perché ovviamente come tutti i prodotti di qualità che si rispettino anche Gran Prato ha le sue regole, no? Sì, i disciplinari di Gran Prato sono nati proprio all'origine della filiera, sono stati redatti con la collaborazione dell'Università di Firenze e del professor Stefano Benedettelli, si è cercato di dare a un tipo di agricoltura comunque convenzionale un'impronta qualitativa forte, cercando di rispettare quelli che sono i cicli dell'agricoltura classica, quindi le rotazioni delle coltivazioni nel campo per non esasperare troppo le concimazioni, un sistema di conservazione del grano, come ho detto, che usa l'aria fredda e quindi post raccolta non c'è bisogno di nessun tipo di trattamento chimico per la conservazione della granella, il sistema di macinazione è un sistema di macinazione tradizionale che non usa assolutamente additivi, le versioni della farina Gran Prato sono tipo zero macinata a cilindri e integrale invece macinata a pietra e soprattutto sul pane questo è un prodotto che può contare due ingredienti soli, la farina e l'acqua, perché come lievito si usa il lievito madre che è un impasto di acqua e farina che fermenta naturalmente. E poi ovviamente la maestria dei nostri formali quella è insuperabile. Appunto dicevamo della grande qualità di questo pane e se vogliamo anche la crescita del Gran Prato, il successo che ha riscosso presso il pubblico testimone, anche la sensibilità che comunque il consumatore ha dimostrato verso il prodotto di qualità. Assolutamente sì, la crescita poi di un progetto come Gran Prato non può che avvenire grazie al seguito dei consumatori finali, i consumatori finali che poi sembrano un'entità astratta, ma in realtà i consumatori finali siamo tutti noi, sono io e Marco Manzo, cioè i consumatori finali. Tante volte, tornando un po' al discorso iniziale dei pastori sardi, mi fa sorridere, siccome oggi siamo tutti sui social, vedere che molti professano solidarietà magari mettendo sul profilo l'immagine della bandiera della Sardegna, io sono uno con i pastori. Guardate, la solidarietà alla fine si fa quando andiamo a fare la spesa, nelle scelte che da consumatori facciamo quando andiamo a comprare quelle che portiamo a tavola. Lì facciamo veramente la differenza. Certo, anche perché appunto come dicevi all'inizio il prezzo, la differenza veramente minima tra un prodotto veramente di qualità e soprattutto come dicevamo che riesce a coprire tutta la filiera, quindi si va dal produttore del grano fino al panettiere che sono tutti pratesi, quindi già questo basterebbe per garantire un acquisto. Facevamo riferimento chiaramente alla filiera, tutti gli anelli della filiera sono pratesi nella produzione del Gran Prato, uno di questi ti riguarda particolarmente perché ovviamente è il mulino, no? Sì, certo. E il tuo, il mulino Bardazzi, è rimasto l'unico, l'ultimo mulino in provincia, peraltro quest'anno compite 100 anni. Eh sì, appartiene alla mia famiglia dal 1919, quindi appartiene, quindi era un mulino che già esisteva, ma è stato acquistato dal mio bisnonno nel 1919, ci lavorava come dipendente e divenne poi proprietario e quindi quest'anno noi facciamo 100 anni di famiglia, diciamo, mugnaia. E quindi l'ultimo mulino, ma direi essenziale per continuare appunto a produrre il Gran Prato. Stiamo per concludere la domanda successiva riguarda anche un po' il futuro, no? Visto abbiamo parlato dei sette anni, della crescita del Gran Prato, dove può e dove vuole arrivare ancora l'associazione? Ma allora, Gran Prato, parlando di numeri, è cresciuta in questi sette anni dai 60 quintali del primo anno a oltre 1000 quintali di farina prodotta nel 2018. Se si parla in termini di numero di pezzi di pane, noi si calcola con i bollini, perché ogni bollino va su un pezzo di pane, abbiamo superato i 100.000 pezzi all'anno dei pane. Ma abbiamo appena intaccato il potenziale della piana pratese. Noi potremmo produrre 10 volte tanto, anche 15 volte tanto, quello che già stiamo facendo. Naturalmente noi produciamo quello che il mercato assorbe. Quindi più il mercato sarà sensibile, più il mercato riuscirà a assorbire il prodotto Gran Prato, noi più siamo contenti e cercheremo di soddisfare le richieste, perché le potenzialità ci sono assolutamente tutte. E questo quindi direi che è un messaggio per i nostri telespettatori a casa, per quante ancora magari non hanno così dimestichezza nel Gran Prato, l'invito magari ad assaggiarlo per la prima volta, per quanti ancora non l'hanno fatto e poi magari si renderanno conto davvero della qualità e soprattutto del lavoro tutto medio in Prato che c'è dietro questo straordinario prodotto. Io ringrazio davvero il Presidente dell'Associazione Gran Prato, Marco Bardazzi. Grazie a voi. Ringrazio a voi tutti a casa ovviamente di averci seguito e vi ricordo che intorno alle nove e intorno a domani, sempre dopo il telegiornale. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di serata. Grazie a tutti.